C'è un nuovo mezzo a Latina, innovativo e tecnologico, che ti permette di spostarti in città più agilmente, rispettando l'ambiente ed in piena sicurezza. Ma sei sicuro di saperlo usare? I monopattini in sharing sono vietati ai minori di 14 anni. Fine ai 18 anni il casco è obbligatorio e l'utilizzo è consentito da una sola persona alla volta. Segui le regole del codice della strada, parcheggia correttamente e rispetta la città e chi la vive. Grazie a tutti.